ciao eccoci alla quarta mini sequenza che lavora sul respiro quest'oggi ci dedichiamo a una respirazione alternata che va ad equilibrare le funzioni delle due narici un equilibrio fisiologico per cui mi serve proprio per utilizzare per attivare le due narici in maniera equilibrata e mi serve a livello energetico per equilibrare le due polarità la polarità positiva nella narice destra la polarità negativa nella narice sinistra bene assumiamo la nostra posizione seduta come abbiamo visto precedentemente possiamo stare su un cuscino su una sedia su uno sgabello e raggiungiamo una buona apertura toracica attraverso l'allungamento della colonna quindi sempre quell'immagine del filo che ci tira dalla sommità verso l'alto mi aiuta ad allineare la colonna verticalizzarla sfruttando al meglio tutti gli spazi respiratori bene allora utilizziamo una tecnica che prevede sei tempi in tre respiri accompagnando mentalmente con il conteggio dell'inspiro e dell'espiro per facilitare il controllo dei flussi il mantenimento dello stesso ritmo e per aiutarci a rimanere ben concentrati su quello che stiamo facendo allora appoggiamo l'indice medio della mano destra alla radice del naso tra le sopracciglia in questo modo abbiamo il pollice destro disponibile a chiudere la narice destra e l'anulare il mignolo disponibile a chiudere la narice sinistra inspiriamo da tutte e due le narici chiudiamo con l'anulare la narice sinistra e contiamo dalla narice destra espiro uno inaspiro cinque inaspiro sei chiudo la destra libero la sinistra espiro uno inaspiro due espiro tre inaspiro quattro espiro cinque inaspiro sei riposiziono la mano destra chiudo la narice destra inizio dalla sinistra espiro uno inaspiro due espiro tre inaspiro quattro espiro cinque inaspiro sei chiudo la di nuovo tutte e due insieme espiro uno inaspiro due espiro due espiro la narice sinistra e dalla destra espiro uno inaspiro due espiro tre inaspiro quattro espiro cinque inaspiro sei E di nuovo tutte e due insieme, espiro 1, innespiro 2, espiro 3, innespiro 4, innespiro 5, innespiro 6. Bene, completiamo, portiamo le mani giunte al petto, se volete stendetevi un attimo in modo da recuperare un respiro naturale, equilibrato e percepire gli effetti di questa respirazione alternata, Nadi Shodhana Pranayama. Grazie, alla prossima. Grazie.